Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense, apriremo tra poco con la cronaca con due notizie, anziani rapinati in casa da finti postini e parleremo anche di ladri in azione in due appartamenti fermati dai carabinieri. Ci occuperemo ancora di maltempo ovviamente con il lavoro in corso per ripristinare la falla nell'argentano ma anche una nuova allerta arancione per rischio idraulico in provincia di Ferrara. Spazio poi al maxiprogetto per abbattere la CO2 del termovalorizzatore di Ferrara e parleremo anche del palasport da riamodernare, il comune si candida al bando. Telefonia, poi nuova antenna Ferrara, c'è l'allarme dei comitati, poi spazio al nuovo film con Stefano Muroni chiamato Il soldato senza nome presentato al Cinema Apollo ma daremo spazio anche a un evento per Teleton in programma Mirabello con il flautista Andrea Griminelli in concerto nella serata di venerdì 25 ottobre. Cominciamo subito però dalla cronaca perché una coppia di ultra settantenni di Argenta è stata vittima di una rapina in casa, i malviventi con il volto parzialmente coperto hanno sorpreso gli anziani fingendosi postini e li hanno appicchiati. Dopo aver messo a soccuadro l'abitazione i rapinatori sono fuggiti a piedi abbandonando l'auto utilizzata per la fuga e a dare allarme è stata un'amica della coppia. I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi e le indagini sono tuttora in corso. Rimaniamo sulla cronaca dove due ladri, un uomo di 19 anni e una donna di 64 originari delle province di Venezia e Treviso sono stati fermati dopo aver tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro. Entrambi i tentativi di furto sono falliti grazie all'intervento dei proprietari che hanno sorpreso i malviventi e allertato le forze dell'ordine. I due sono stati denunciati alla procura di Ferrara per tentato furto in abitazione in concorso. E parliamo adesso del maltempo che prosegue nel ferrarese con la vigilanza degli argini del Po e dei canali del consorzio della bonifica ferrarese a opera dei tecnici di Aipo e dei volontari. È iniziato lo svuotamento graduale del cavo napoleonico e sono cominciati i lavori di ripristino a Campotto, la zona allagata dall'Idice con danni ingenti ai campi e ad alcune attività. Allora facciamo il punto proprio con il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. La protezione civile della Regione Emilia Romagna sono al lavoro per fare in modo che lo squarcio che c'è sull'argine di Idice venga ripristinato nel miglior tempo possibile. Sarà un lavoro importantissimo, per questo motivo vi chiediamo di non frequentare l'area. Oggi abbiamo chiuso il via Cardinale all'altezza di via del Catino e chi dovrà andare verso Molinella a Bologna potrà prendere quella strada. Non passate a curiosare in quest'area che è di fatto un'area di cantiere dove solo gli obietti ai lavori possono muoversi. Un grande grazie a chi sta lavorando, la protezione civile, in un'area fortemente danneggiata, nelle sue strade, nei suoi ponti. Abbiamo il museo delle valli che è completamente sommerso dall'acqua e molto probabilmente molto materiale è andato perduto e con lui alcune delle attività che sono in quest'area. Tutti sono al lavoro per dare il massimo di sé e ripristinare il prima possibile quest'area che ci metterà un po' di tempo per tornare alla normalità. Queste dunque le parole del sindaco dirigente Andrea Baldini, ma adesso invece rimaniamo sempre sul meteo perché venerdì c'è una nuova allerta arancione per rischio idraulico in gran parte della regione a causa di nuove precipitazioni e della saturazione dei suoli. Allerta che interessa appunto anche il territorio ferrarese come vedete dalle immagini. Per la giornata di venerdì in regione sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco in spostamento da sud verso nord e più intense persistenti nelle zone del crinale appenninico centro-occidentale. La criticità idraulica arancione sulle pianure centro-orientali di Vierasche e del Po è riferita al transito della piena in attenuazione con livelli superiori alla soglia numero 2. Adesso invece torniamo a parlare del progetto di cattura della CO2 prodotto dal termovalorizzatore di Ferrara che prevede risorse da 24 milioni di euro per ERA e Saipem. Vediamo il servizio. Catturare l'anidride carbonica in uscita dai camini dei termovalorizzatori per poi stoccarla nei giacimenti di gas naturale esauriti abbattendo così in modo significativo le emissioni degli impianti contribuendo alla decarbonizzazione dei territori. È l'obiettivo del progetto sul termovalorizzatore di Ferrara proposto dal gruppo ERA, soggetto capofila in collaborazione con Saipem e del progetto selezionato per ricevere finanziamenti europei. Una volta che l'assegnazione sarà definitiva, l'importo destinato a questo progetto sarà di quasi 24 milioni di euro. Un progetto industriale di cattura della CO2, primo in Italia e tra i primi in Europa, prevede appunto l'applicazione di una tecnologia enzimatica per la cattura dell'anidride carbonica nei processi industriali di piccoli e medi emettitori. Il progetto dovrebbe consentire di catturare il 90% circa delle emissioni di una delle due linee del termovalorizzatore, ovvero 64 mila tonnellate di CO2 all'anno, equivalente alle emissioni annuali di circa 37 mila automobili. La CO2 catturata verrà trasportata tramite condotta e stoccata nei giacimenti di gas esauriti dell'alto adriatico. L'operatività dell'impianto è ipotizzata per il 2022 e il progetto punta ad abbattere completamente le emissioni di CO2 del termovalorizzatore di Ferrara. Una notizia che si lega allo sport perché Ferrara candida un nuovo maxiprogetto da oltre un milione di euro per rimettere a nuovo il Palasport. È stata approvata in giunta martedì la delibera proposta su impulso dell'assessorato allo sport. Gli interventi includono il miglioramento dell'isolamento termico, l'impermeabilizzazione, la sostituzione delle superfici vetrate e il rifiacimento dell'impianto di illuminazione con l'obiettivo di garantirne un salto di almeno una classe energetica. Si otterrà il finanziamento necessario, il comune mira ad avviare i lavori entro il 2025 e a completare il progetto entro la primavera del 2026. E parliamo adesso di una nuova antenna telefonica comparsa nella zona est di Ferrara, più precisamente in via Frutteti e i comitati di cittadini hanno sollevato diverse perplessità. Sentiamo dal servizio. Noi già avevamo contestato il modo in cui era stata realizzata l'antenna nella rotatoria Caldirolo Turchi e a settembre, a sorpresa, veramente senza nessun preavviso, abbiamo visto un cantiere all'inizio di via Frutteti dove viene realizzata, ed è già finita, un'altra antenna alta come un palazzo di dieci piani. È un'antenna che crea perplessità e paura per problemi di salute. Cioè è evidente che l'elettrosmog è classificato come possibile cancerogeno. Tutte queste perplessità noi le abbiamo sollevate appena abbiamo scoperto che questo era un impianto per telefonia, contattando il comune, abbiamo chiesto un incontro. Per fortuna, e lo ringraziamo, il vice sindaco Balboni ha risposto alle varie richieste che abbiamo fatto. Lui ha accettato questo incontro e quindi abbiamo avuto modo di esprimere la nostra perplessità, la nostra preoccupazione, facendo presente che dopo un accesso agli atti che avevamo fatto urgente, avevamo notato qualcosa di anomalo nella procedura con cui questa antenna di via Frutteti è stata realizzata. La cosa evidente è che è stata realizzata con una facilità di pratiche urbanistiche impressionante. Cioè dalla nostra verifica effettivamente hanno fatto tutto secondo le norme, ma c'è un problema di norme che facilitano enormemente le compagnie telefoniche a discapito dell'interesse dei cittadini, che è un interesse concreto, perché uno può dire la paura, paura di problemi della salute è non documentabile più di tanto, ma questa paura si traduce ad esempio nella svalutazione degli immobili. È dimostrato che in tutte le città dove si creano queste situazioni con questi enormi piloni, la stessa casa che era vendibile facilmente non è più vendibile facilmente, oppure deve depreciarsi, deve svalutarsi e questo è un danno concreto. È un problema di tutta la città, dove già nel 2021, quando è stato fatto il censimento, erano installate 230 stazioni per la telefonia. Quindi la città di Ferrara è già ampiamente coperta da queste stazioni della telefonia. Adesso col 5G, con questa nuova tecnologia di trasmissione, ne stanno ulteriormente aumentando, quindi ogni anno c'è il rischio di vedersene spuntare una nuova sotto casa. Noi infatti abbiamo indetto una manifestazione domenica mattina alle 10, se c'è qualcuno che vuole partecipare è ben accetto, dall'incrocio via Del Melo e arrivare fino a via Caldirolo, facciamo una manifestazione in grande stile, stiamo vicini, formiamo un bel gruppo perché come sappiamo tutti più gente c'è e è più facile ottenere qualche cosa. E adesso parliamo di economia perché secondo i dati di Union Camere nel terzo trimestre aumentano le imprese in Emilia-Romagna. Sentiamo. In Emilia-Romagna tra luglio e settembre sono nate 4.725 imprese a fronte di 3.895 cessazioni in forte aumento, il saldo è positivo più 830 unità ma è il più contenuto dall'estate del 2020. E quanto riportano i numeri di Union Camere, l'agricoltura, la pesca hanno registrato un saldo negativo di 110 attività, il numero delle imprese dell'industria è diminuito di 50 unità, crescono ancora le costruzioni, 269 in più e aumentano anche le imprese dei servizi più 734. Il commercio al dettaglio perde 398 imprese mentre il numero di quelle all'ingrosso rimane quasi invariato, meno 12. Cresce più 783 il numero delle imprese e dei servizi diversi dal commercio. L'aumento più rilevante viene dall'aggregato del noleggio delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese, più 140 unità seguono attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi di alloggio e ristorazione e attività finanziarie e assicurative. Tutte queste in crescita. E adesso parliamo di morosità e vulnerabilità socio-economica e degli inquilini di alloggi sociali nel nostro territorio, tema che sarà affrontato nella nuova puntata di Detto tra noi. Il talk show in onda ogni giovedì sera alle 21.30 su Teleestense ospita questa settimana il direttore di Acer Ferrara Diego Carrara e il professor Alfredo Aglietti, docente Unifee, che ha curato appunto questa ricerca. Nella puntata si affronteranno le problematiche di una popolazione a rischio e impoverimento e che si trova in difficoltà anche nel pagare un semplice affitto mensile. A seguire spazio alle iniziative dell'Ottobre Rosa, proposte dal Centro di Medicina e dalla Lilt di Ferrara per la prevenzione dei tumori femminili. Intanto vediamo lo spaccato iniziale dedicato proprio ad Acer Ferrara. Sentiamo. Facciamo una piccola premessa perché è importante anche per dare una certa importanza a ciò che stiamo discutendo adesso. È che questa è una delle poche ricerche che è stata fatta specificatamente sulla morosità all'interno dell'Agenzia dei Casi, in questo caso Acer Ferrara. Dunque è una ricerca che ha un suo valore anche per questo, perché questo tema è sempre un po' al centro della riflessione, dei problemi anche che hanno le agenzie di casa. E noi siamo andati dentro, in questa scatola nera, a vedere attraverso i dati che ci ha fornito Acer per capire bene, come giustamente è stato detto, chi sono i morosi. Cos'è che mi ha colpito? Beh, diciamo che noi abbiamo analizzato una decade, dal 2011-2022, che sono i dati del censimento che Acer ci ha fornito, ed emerge un cambiamento importante, significativo. Partiamo dalla condizione, secondo me, primaria, il lavoro. Cioè, ovvio che noi riconosciamo il lavoro come quella capacità reddituale a livello familiare che permette di sostenere le spese, in questo caso, no, della casa. E qui emerge un dato molto importante, molto significativo, che in qualche modo anche il dottor Carrara ha fatto riferimento, no? L'impoverimento di una parte significativa della popolazione. E i dati Acer in questa decade ci avverte, ci offre uno scenario che è cambiato in questo senso. C'è un importante impoverimento delle famiglie, ma un punto essenziale è che questo impoverimento non va a toccare solo chi è in una situazione di disoccupazione o sottooccupazione o inoccupazione come per seguire un po', no, lo stile Istat, ma va anche a colpire chi lavora. I famosi, come si dice, no, in gergo, i lavoratori poveri, i working poor, per dire l'anglosassone, cioè coloro i quali hanno un lavoro, sono integrati all'interno del mercato di lavoro, ma non hanno quel reddito, quel salario sufficiente che gli permette di far fronte alle spese della casa e soprattutto anche delle utenze. Perché ricordiamoci che abbiamo, come dire, il complesso casa è il canone, le spese condominiali più le utenze. Di conseguenza noi abbiamo un quadro in cui c'è sostanzialmente un trasferimento da una situazione, bene o male ancora, che aveva tutta una sua situazione sotto controllo, a qualcosa che incomincia a schicchiorare perché aumenta la quota di chi no è povero o quantomeno in una condizione di rischio povertà. Tutto questo dunque nel corso di tutto tra noi, ma adesso invece parliamo di un appuntamento per venerdì sera, perché intanto in corso in questi giorni Mirabello la tradizionale fiera di San Simone e tra gli eventi clou di quest'anno spicca il concerto che vedrà come protagonista il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, l'artista che nella sua carriera avanti importanti collaborazioni con Luciano Pavarotti si esibirà appunto venerdì il 25 ottobre alle 20.30 nella chiesa provvisore di Mirabello in un evento a sostegno di Teleton e di Anfas Coccinella Gialla. Parliamo adesso invece di cinema, si chiama Il soldato senza nome ed è il nuovo film che vede protagonista l'attore Stefano Muroni e che affronta il delicato tema dei traumi da guerra riportati dai soldati feriti durante il primo conflitto mondiale. Alla multisala Apollo è tenuta la prima del film e quindi sentiamo le interviste realizzate durante la serata. Sono molto emozionato perché finalmente presentiamo il nostro terzo film nella città di Ferrara, un film che parla di una storia ferraresi dimenticata. Questo progetto nasce un po' come i nostri precedenti, come il film sul terremoto, come il film su Don Giovanni Minzoni. Questo film parte da una storia che noi sapevamo dell'esistenza, del primo ospedale militare psichiatrico d'Europa che fu istituito a Ferrara a Villa del Seminario dove oggi c'è del ragazzo e sapevamo che in questo luogo quasi magico, seppur molto violento, sono state realizzate le prime cure pionieristiche da parte del professor Ghetano Boschi, il quale di fronte a questi soldati che tornavano dal fronte, non li più trattati come scemi di guerra, bensì ha iniziato a scrivere nei propri saggi personali nevrosi di guerra. Il primo che ipotizza che ci sia una nevrosi di guerra di quei soldati che tornano. Sembra una storia locale, in realtà grazie a quegli studi Ferrara diventa tra il 1916, il 1917 e il 1918 per quei due, tre, quattro anni capitale della psichiatria militare mondiale. Quindi una storia nostra, ferrarese, che avevamo dimenticato quando Ferrara in qualche modo era al centro del mondo. Noi ringraziamo il Comune di Ferrara, l'Emilia Romagna Film Commission, il Ministero della Cultura per aver creduto in questo film. Parte da oggi a Ferrara ma vuole arrivare in tutta Italia e in tutto il mondo. Però ecco, da oggi parte una nuova storia che è Il Soldato senza nome. Ecco, possiamo dire quindi Stefano Muroni ancora prosegue con il filo conduttore di storie sempre legate al territorio. Sì, io sono di queste terre, vengo dal basso ferrarese, sono nato a Ferrara, mi sento ferrarese a tutti gli effetti. So che c'erano, ci sono ancora tante storie da ricordare, da raccontare che il tempo purtroppo le sta tendendo all'oblio. Noi cineasti, noi raccontatori, noi narratori di palude, di pianure, di bonifica, credo che abbiamo il piacere e il dovere di raccontare queste storie. Questa storia è una storia che nessuno più ricordava ma che in qualche modo qualche anno fa è venuta a bussarci la porta a questa storia perché voleva essere raccontata e l'abbiamo fatto attraverso l'arte cinematografica. È stato molto difficile produrre questo film perché solo dei folli possono produrre un film indipendente, quindi a basso budget, di ambientazione, quindi è ambientato nel 1916. Però noi avevamo già prodotto un film di ambientazione con, oltre alla bufera, Don Menzoni e qui abbiamo detto, beh, già siamo rodati su questi film, tipo di film e quindi poi era una storia troppo importante per, anche troppo dimenticata, una storia ferrarese anche troppo dimenticata per non essere ricordata. Poi da non ferrarese, perché comunque sono romana, però sentivo molto l'esigenza di raccontare questa storia perché comunque io ho sofferto di disturbo da stress post-traumatico e quindi devo solo che ringraziare un grande medico come Gaetano Boschi per aver per primo teorizzato e messo in pratica una cura non invasiva per questo disturbo. Ok, quindi un film che parte questa sera da Ferrara e poi immagino sarà distribuito, giusto, un po' dappertutto. Sì, 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 il film andrà soprattutto in Emilia Romagna ma anche in ogni città importante d'Italia e anche molto nelle Marche perché comunque il regista è marchigiano e anche molto in Veneto perché comunque in Veneto è sentita molto di più anche la Prima Guerra Mondiale, però comunque andrà in tutta Italia. E adesso anticipiamo un appuntamento atteso che seguiremo anche noi di Telestense, il Ferrara Food Festival, giunto alla sua quarta edizione che si conferma l'appuntamento imperdibile per gli amanti dell'enogastronomia. Dal 31 ottobre al 3 novembre il cuore pulsante della manifestazione sarà l'area eventi di piazza municipale dove si alterneranno grandi chef, produttori e appassionati per una serie di appuntamenti live gratuiti, unici e coinvolgenti. Gli eventi ospitati all'interno del Palace Sima Bio saranno l'occasione perfetta per scoprire i segreti della cucina ferrarese e le eccellenze gastronomiche del territorio. Chef stellati e talenti emergenti si sfideranno ai fornelli proponendo piatti creativi e rivisitazioni di ricette tradizionali e non mancheranno le degustazioni guidate, le masterclass e gli incontri con i produttori locali per un'esperienza nel mondo del gusto. Tra gli appuntamenti da non perdere la storica di sfida degli agriturismi ferraresi che quest'anno vedrà i concorrenti in gara sfidarsi su un dolce classicissimo della tavola ferrarese ma che proprio per la sua apparente semplicità diventa un interessante terreno di scontro ovvero la ciambella ferrarese o meglio la brazzadela, una preparazione rustica e leggermente biscottata. A seguire anche la Champions League delle sfogline che per questa nuova edizione saranno chiamate a sfidarsi su un evergreen della pasta fresca ovvero la tagliatella al ragù. Questi tra gli appuntamenti ma ce ne saranno tanti altri legati al Ferrara Food Festival su cui torneremo nei prossimi giorni. Detto questo vi ricordo come sempre telestense.it e i nostri canali social per questi ulteriori aggiornamenti per cui grazie per averci seguito. Come sempre l'appuntamento rinnovato alla prossima edizione. Grazie. Grazie.